Ucciso e abbandonato sulla perimetrale di Melito. Mirko Romano, 27 anni, presunto boss ritenuto legato al clan degli scissionisti, è stato ritrovato morto sulla strada di collegamento tra Melito, Scampia e Giuliano. Il 27enne sarebbe stato ammazzato a colpi d'arma da fuoco e poi riportato sull'arteria stradale. In un primo momento si era pensato a una vittima di un incidente automobilistico, ma l'esame del medico legale ha accertato che Mirko Romano era invece morto a causa di un proiettile. L'uomo aveva 3.600 euro in tasca, un Rolex d'oro al polso e un documento falso intestato a un 23enne. Il riconoscimento è stato eseguito attraverso le impronte digitali. Mirko Romano, infatti, era stato arrestato nell'aprile scorso perché era ritenuto responsabile di una rapina alla sede del Monte dei Paschi di Siena di Pomigliano. Buongiorno e bentrovati con l'informazione di Unica Channel. Camera e Senato hanno espresso solidarietà al giornalista e senatore Sergio Zavoli, aggredito e rapinato nella sua villa a Monteporzio Catone, alle porte di Roma. Secondo una prima stima, il bottino sarebbe stato di circa 20.000 euro. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, i rapinatori avrebbero atteso dall'esterno il rientro a casa dei domestici per poi minacciarli ed entrare con loro probabilmente da una porta secondaria. I banditi, secondo quanto riferito dallo stesso Zavoli, agli investigatori avevano un accento dell'est Europa e il volto coperto dal cappuccio. Trattativa stato-mafia. La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso del Presidente della Repubblica sul conflitto con la Procura di Palermo, dichiarando che non spettava la Procura di valutare la rilevanza delle intercettazioni, né di omettere di chiederne al giudice l'immediata distruzione ai sensi dell'articolo 271 del Codice di Procedura Penale. La decisione della consulta è che le intercettazioni che hanno captato il Capo dello Stato vengano distrutte. Esteri. Oltre 250 morti nelle Filippine e centinaia di feriti. E' il bilancio del passaggio del tifone BOFA. Lo riferiscono le autorità locali. L'area più colpita è la città di New Batam. Le piogge terrenziali sono state accompagnate da venti che hanno sfiorato i 250 km orari. BOFA è il tifone più potente che ha colpito l'area quest'anno. Dopo aver investito l'isola di Mindanao ha devastato Palawan, nota in tutto il mondo per le sue spiagge e punti di immersione. E concludiamo con il calcio. Champions League. Il Milan al Meazza perde per 1-0 contro i russi dell'Ozenit, allenati da Spalletti. Sconfitta comunque in dolore per gli uomini di Allegri che erano già qualificati agli ottavi. Stasera, sempre per la Champions, in campo la Juventus, che si gioca la qualificazione in l'Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk. Ai Bianconeri basta un pari per il passaggio agli ottavi. Era l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di giornata.